LORO E NOI Disse mio padre Dovrebbero trovarsi un lavoro Ce l'hanno un lavoro Disse io Un accidente Disse mio padre Esattamente Disse io A quel punto Faulkner entrò dentro Barcollanto Trovò Lo whisky nella credenza E se lo portò fuori Una persona Tremenda Disse mia madre Poi si alzò E sbirciò fuori in veranda C'è una donna con loro Disse lei Solo Che sembra un uomo E' Gentrude Disse io C'è un altro tizio Che sta facendo vedere i muscoli Disse lei Dice di poterli battere A tre a tre E' Hermie Disse io E lui Mio padre Mi indicò Vuole essere come loro E' vero Chiese mia madre Non come loro Disse io Ma uno di loro Trovati uno stramaledetto lavoro Disse mio padre Stati zitto Disse io Che? Ho detto Stati zitto Sto ascoltando Sto ascoltando queste persone Mio padre Guardò sua moglie Questo non è figlio mio Spero di no Disse io Folkler Entrò di nuovo Nella stanza Barcollando Dov'è il telefono? Chiese Ah che diavolo Ti serve? Chiese mio padre Hermie Si è appena Fatto saltare Le cervella Disse lui Lo vedi? Cosa succede Alla gente così? Urlò mio padre Mi alzai lentamente E aiutai Bill A trovare Il Telefono E Grat覺得 Tu És car Più Ma Ma Chlene Ma S La Ma 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 Grazie.